Pronto? Tu conosci la mia amica Miri, la ballerina. L'ho trovata morta a casa sua. E c'è una cosa che devo fare al posto suo. Per andare a cazza. Voglio farvi solo una domanda. Dov'è il bastardo? Ti verrò a cercare anche all'inverno. Non l'avevo mai vista prima. Ti sembra che stia scherzando? Non ti ricordi di me? Sono io, la ballerina.